che è quella del surf dell'infamia ecco lui è Gigetto Makasama cacciatore di taglie da piacca grasso ecco vedi che taglie e caccia è veramente una 50 no no taglie nel senso proprio banditi caccia proprio ah capito lei con uno stile veramente meraviglioso questo è Trunello Kajaki Pizza Agliuolo da Borgo Kujaki quindi che è un po' da ha rotto tutto l'impianto sono un po' del novello di Esther Williams è diritto neanche quando sono stizzosi nonostante il gesto di stizzosi questo è carico carico, vedo carico a sali vedo anche angeli che stile dalla scuola a pitticazione e poi a a forse no dice che questo neanche dice che è che sarà vestito è arrivato spogliato quando stava attraverso i denti dello squalo si tutta scena a posta perché c'è anche che mi bagni i vestiti si c'è stato di cadere qui n'era il costume ovviamente ecco quella quella speranza della vita per me una qualsiasi cosa faccia deve fare fuori che era preparato anni infatti il gesto di stizza c'è tutto ecco guarnando fujaki killer da schioto a mare quindi che ci prova no ma la settimana del surf questo è un esempio di scassor vedi che concentrato è l'aspettato ma pensavo che ci fossero presi no no ecco via complimenti complimenti con c'è stato un po' che modo si no no mi è un po' faccio di pezza che ha in quel modo la settimana di Castoriella che ho tradotto dal giapponese da Casula che vuole fare il surf allora va in California e aspetta l'onda a un certo punto è una strada grandissima è un po' difficile aspetta che sto guardando eh no come finisce questa tavola ok lui dice come finisce dalla mano ma penso che dà ma mamma siete i dati magari no allora lui ah ha vinto ce l'ha fatta ce l'ha fatta ha un po' soffatturato ma ce l'ha fatta ce l'ha fatta ma la lei finiva che lui insomma mi arriva che sono dove prende la tavola ah questo è quello che è caduto è la spazia è via